Buongiorno ai nostri telespettatori, a Fabio Lussoso, siamo qui proprio in compagnia della sindaco di Torre dei Passi di Piero Di Giulio perché c'è il rischio che per l'anno scolastico 2019-2020 la prima classe dell'Istituto Tecnico Economico di Torre dei Passi non si ricostituisca o meglio ci sono già 10 iscritti ma sembrerebbero essere pochi secondo l'ufficio scolastico provinciale per avere modo di costituire una prima classe ora non costituire, non riuscire a varare una prima classe è importante non solo per la prima classe in sé ma perché può sembrare anche un segnale prodromico per una progressiva riduzione dell'Istituto essendo l'unico istituto superiore di Torre dei Passeri e uno dei pochi del territorio del comprensorio è preoccupante perché mandare poi ragazzi fuori città comunque significa spopolare ulteriormente le realtà di cittadine dell'entroterra che già sono alle prese con questi problemi aumentando invece la popolazione scolastica e il traffico nelle città che andrebbero a supportare e a recuperare questi alunni e per di più in questa classe, mi spiegava il sindaco, ci sarebbero anche dei ragazzi disabili per cui si spera che quella famosa soglia dei 10 possa essere in qualche modo rivista ma andiamo con ordine, cosa avete scoperto e come vi state regolando, che cosa state facendo per evitare che questo accadde? Buongiorno a tutti, noi siamo venuti a conoscenza dalla scuola praticamente che pare non ci siano i numeri per riconoscere l'organico di diritto perché queste 10 iscrizioni anche se ci sono due alunni certificati con disabilità grave pare non siano sufficienti quindi l'appello mio personale e anche dei colleghi sintaci dell'intera area i colleghi di Scafa, Lanno, Pesco Sanzonesco, Castiglione a Casaurea, Cugnoli, Pietranico, Corvara e sicuramente ne dimentico qualcuno ma anche altri mi hanno chiamato oggi che abbiamo fatto il comunicato stampa e sono detti vicini a questa causa, crediamo che questo sia un presidio perché appunto come diceva lei le scuole di Pescara esplodono invece qui abbiamo queste, definirei anche eccellenze, questi istituti a servizio della comunità che sono una ricchezza per il nostro territorio non solo comunale ma dell'intera Val Pescara l'istituto tecnico economico di Torre dei Passeri c'è ormai da quasi 40 anni quindi sarebbe una iattura che non si formasse questa classe prima quindi nostro l'appello al presidente della provincia che è stato molto sensibile ma anche all'ufficio scolastico provinciale e regionale affinché ci venga incontro con delle deroghe se ci sono delle regole però a noi non risulta perché l'intera area ha bisogno che questo istituto e questo corpo docente resti sul territorio Ecco, naturalmente abbiamo parlato di presidente della provincia perché essendo un istituto superiore di competenza proprio della provincia di Pescara con la quale avete condiviso questa lettera inviata all'ufficio scolastico e firmata dai sindaci Sì, anche perché il presidente Zaffiri non era a conoscenza della situazione quindi è stato un modo anche per informarlo lui ci ha promesso interessamento, ci ha detto che commocherà prossimamente un tavolo istituzionale per discutere la questione quindi noi siamo fiduciosi e collaborativi come sempre sia con le altre istituzioni che con quelle scolastiche Certo, naturalmente abbiamo ascoltato anche la preside Patrizia Corazzini che non può essere qui oggi, però insomma si è detta naturalmente interessata alla risoluzione di questo problema o di questo forse problema perché ancora non è molto chiaro di sicuro c'è che qui le altre classi hanno abbondanza di alunni o comunque sono nei numeri a quanto pare quindi si formano regolarmente lei mi diceva che il fatto che siano ridotte le iscrizioni per questa annualità 2019-2020 deriverebbe da un calo di natalità nell'annata 2007 che però già si registrerebbe un'inversione di tendenza e quindi già per gli anni successivi potenzialmente invece potrebbero aumentare Sì, esattamente per gli anni successivi potrebbero esserci tranquillamente i numeri perché già su Torre dei Passeri questo istituto raccoglie anche i paesi limitrofi che prima ho nominato poc'anzi già su Torre dei Passeri quest'anno abbiamo due classi terze medie di 27 alunni complessivamente invece le seconde medie quindi nati 2006 per l'anno scolastico successivo sono 52 quindi da un punto di vista demografico c'è questa differenza sostanziale volevo precisare una cosa questo appello da parte mia e dei colleghi praticamente l'abbiamo fatto perché ad una mia prima missiva all'ufficio scolastico non abbiamo ricevuto alcuna risposta invece l'informazione da parte della scuola che pare non sia stato riconosciuto all'organico di diritto per quello un attimino ci siamo mobilitati spesso facciamo squadra giustamente per il nostro territorio spogliandoci dal ruolo politico che ricopriamo ma per il bene delle nostre comunità e dei nostri cittadini bene e quindi l'appello parte da qui pronti a tornare indietro qualora ci fossero buone notizie grazie Marina è tutto Fabio se non hai domande no grazie ti ringrazio buon lavoro e ringrazio anche il sindaco di Torre dei Passeri per la sua presenza buona giornata e buon lavoro buon lavoro e ringrazio anche il nostro territorio